Lei è Jun, per la sua gente Yadana Nammè, dea dei nove gioielli. Principessa di un paese magico, un paese oppresso da una feroce dittatura. Ha cercato di aiutare il suo popolo con un matrimonio importante, ma molto pericoloso. Sei rifugiata alcuni anni fa in Italia. perché è stata costretta a fuggire dalla Birmania? e pochi veramente vivono il momento il momento per loro è di passaggio è di passaggio però va vissuta no, 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 no no, 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 no no, 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 no